bella raga benvenuti in una nuova live oggi siamo con il mio amico michele ola mi sapessi mi sapessi a playstation plus stiamo giocando a gta online no e un pochettino che non si è un andale di te amo ma appena viene pellegrino alleluia a me si è ancora unito oh è buono tu sei già unito ok ok anch'io mi sono unito ma stai come stai tu cazzo sono sponato oh che figa la mia macchina è vero mi ero scordato c'è una macchina figa l'amico mio no con lo drango 70 il pellegrino c'è una macchina di merda io c'ho la macchina tutta modificata bravo ma che bello il mio personaggio ma sono l'uomo ma sono l'uomo la invita mia ma non la c'è un'altra oh cos'è sta arma no c'è un'arma che cazzo è sta arma che cazzo è sta arma si chiama pw da combattimento che cazzo è sta arma ma se io mi compro le munizioni francesco giochiamo a gta online a gta online giochiamo si muovemo io sei già unito stai arrivando stai arrivando ma ma che tempo alla live si si saluta bella raga ma perchè non mi fa comprare ah ecco le munizioni si poi ci fanno diventare persone dai muciò che non passo le munizioni e che non non dico non dico non dico non dico non dico vabbè non so proprio mi fanno il potere del pangu il potere del pangu vabbè del pangu vabbè 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 ma mi fanno non dico nate mi fanno ma no Ah, ho capito come si fa, ecco, finisco la sessione tua, perché non mi fa unire la sessione? Sanchi, 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 Sanchi. Sanchi, 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 Sanchi. Sanchi, 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 Sanchi. Sanchi, 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 Sanchi. unisciti alla partita ma non è tutto ma non è tutto vorrei venire a una diversa sessione di te online si va Michele mi sto unendo la sessione ora lo sai come devi fare Giovanni eh no praticamente diventale su spingi quello per aprire la mappa option Giovanni ora ho sentito il sonido che io mi sto unendo ok ok mi sono unito ok oh Michele mi sono unito eccolo dove stai oh mi sto sparando oh mi ha rubato la macchina mi ha rubato la macchina io mi prendo la macchina raga raga mi prendiamo quelle a ehm quella la la avete capito quale la 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 Perché ha abbandonato la sessione? Cos'è? Perché ha abbandonato la sessione? Come dice a Fabio, ha abbandonato la sessione. Come si fanno a vedere quelli che stanno nella sessione? Ecco. Venga, voi dove stanno? Non mi chiede, dove stanno assistendo? Venga, è beccasciata. Ecco la Fabio ha alto. Venga, dove state? Non lo so. Ma io c'ho su Fazio. Mamma mia. Ma io non voglio aggiungere amiche. A Fazle. Mika. Ma dove state? C'è questo? Dove state? Io sto vicino all'aeroporto. Io sto vicino all'aeroporto. Tu dove stai? Ah, eccoci. Ma stai là. Ah. Mi hai visto? Venga, state fermi. Venga, state fermi. Venga, state fermi. Venga, io prendo la mia macchina. Allora, arrivo. Io vado da Francesco. 6 km. Loro vengo a 4 km. Vengo a 4 km. Vai. Ok, vai. E all'arrivo. Rupo una macchina e arrivo. Vengo a una macchina e arrivo. Va bene. V ambassadors. Va bene. Vieni. 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 Gira la macchina, mi hanno buccato le ruote la mia macchina Bravi! Volebbero a testa Dio puttana Non c'è, non c'è, non c'è 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 Oh, Dengi era pandoro Che è? Michele, tu dove stai? Eh, non c'è Oh, la spella dentro, Michele, si Oh Va a fare i bocchini a me Ma dove stai? Oh! Mi ha investito il tuo figlio di puttana Alla Perciò un po' Ma a me mi hanno buccato la ruota Sì, te i muovi Da Da No, Michele Sto quasi vicino a me Alcunco il chilometri è subito da te E non il chilometri è subito da voi Da lui Da lui Da lui Ti lo sai E non il chilometri è subito da voi E non il chilometri è subito da voi Non c'è, a me mi vedi come un puntino bianco Ehm Sì, sì, sì Io non lo vedo più Io non lo vedo più Stoppen 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 Sì, sei lì Mi viene a fare la sessione mio Ehi Stai Vieni 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 Avevo avuto avuto l'ho trovato a fare l'auto regà prendo l'aereo prendo l'aereo scusa per l'aereo si scemo oddio troppo guarda 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 in New York la pittà non ne devi acqua non ne devi acqua regà dove sto regà dove sto che è questo? non si intende regà io mi guardavo io ma io mi guardavo io perché stai a tallo un uomo non mi guido io non so nell'aereoporto 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 no, tu non ti muove vengo io e mi sono incontrati no, arrivo io che città aia aia non si è scattata la macchina come i decidi che cazzo dove state mica li sta quasi vicino a me io mi faccio l'aereoporto manca un don si, mica li sta quasi vicino a me l'ho visto avrei stato vicino avrei stato vicino io li vado incontro non ti vuoi guardare lì eccolo non c'è cento metri non c'è cento metri c'è cento adesso c'è vicino a Natale eccolo eccolo che ti incontro dio aia eccolo Fabio ehi ci salve guarda guarda guardi guardi sinora eh guardi 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 non ci fanno questi gesti quindi uno di voi ti chiama il genio? ma quanto è stato saluto da un'altra cosa non lo vediamo pochino a noi no lo vediamo pochino non lo fa meglio io non lo vedo addio madonna è pura la pura questa è la mia macchina quale è? mi hanno boccato le ruote erdino! questa è la mia moglie ma cordici oh oh una mia moglie oh c'è una stella ciao no no no...non mi uccidere Ucciderò il muro, l'ho uccidito! L'ho fregato! Uccidata! Aia fomma! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Acqua arrivo! Arrivo, non ci trochi! Che cosa? La mia mamma che si... Ma cosa? E lei ha fatto questo che si ha cambiato Lei è sultato la mamma Lei è sultato la mamma E Tino? Non ti nasconde Non potrei riuscire a rinforare Non ho la Grazie a tutti Non ho le munizioni Come ho le munizioni? Non ho le munizioni Devo sciopare le munizioni Devo sciopare le munizioni Munizioni Ci spostiamo Da vero Da vero Cretino Cretino Oh voglio Oddio è una fubola Dino No Mi sono sopra Non mi perderemo mai C'è una pistola in mano C'è una pistola in mano Ho la pistola senza colpi Ma che cazzo mi chiamate in questo momento? Ma che cazzo mi chiamate in questo momento? Ma che cazzo mi chiamate in questo momento? Cretino 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 Aia Good Vediamoci una pistola in testa Non ho le munizioni qua Vediamoci una pistola in testa in posizione Cretino dove stai? Spostiamoci Aiuto 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 Ti sta bene 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 Oddio è stato chiuso aiuto Mamma 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 ho perso la mia vita Ma c'è una gara Facciamo una gara Facciamo una gara No No Dai facciamo cazzeggio Io che cosa faccio? E se se te non ho fitte delle donne mamma ho perso la mia vita Io ho detto a giocare all'aeroporto E mi rupo un aereo E mi rupo un aereo Anche io voglio siiii c'è un elicottero e ci vado a prendere un elicottero si si nel cocotone se vedi un elicottero sono io e speriamo che non mi abbassino ma penso no spiro si amico arrivo 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 schendo venga salga 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 cidente salgi tino salgi tino salgi bravo ambiamo come cosa stai credito non lo stai si stai da una volta a panorama vediamo dove vorresti andare a coltancuto non lo so eh non lo portano si si andiamo mi metto in punto io lo so da queste parti aspetta e non mi ricordo anch'io dovrebbe 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 essere qua o qua o qua ehm apri qua ehm ehm le 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 con Zanzo e non ci abbattino con il Getz tu credi che ci abbatteranno con il Getz? no è molto più giusto al massimo quello che vuoi andare no, questa sarà più o meno che vuoi andare non ci abbia mai non ci abbia mai tu visi che bello il Getz è orale ciao ciao ma se il nome del vaffanato che vuoi fare che cosa vuoi essere? Anche qua! Anche qua! Credo Non è la Dì, non è la Credo Perché io sono ma siffruo lei me Vai Tu, 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 tu Non è C'è quella Ehm, qual è? Non è questa Si Non è quella Ma non è da questo apporto Non c'è quella Aspetta Ai Trapporte Si Ma non c'è quella Non c'è quella No, 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 no Sì, no Sì, non c'è, non c'è Non c'è quella Da mano, ma non c'è la mia città Non c'è Non c'è E essa non è Da sicuro sei ma c'è un giro a voto ci siamo non so dov'è ho fatto tutta la notte a capire le ruote ma tu devi fare uno speciale eh? devi fare cazzo uno speciale che speciale p oh ci sono e e è la ahl e allora sono non ho una macchina 24 un minuto come si si può stiamo girando stiamo girando un buon anno ci buttiamo no a te che non abbiamo un buon anno vabbè c'è un buon anno era di qua mi ricordo qua Ma non ce l'ho il coso io! Sono vivo! Si vivo come? Sono caduto nell'acqua! Ah! Il cacco! Ah! Il cacco! Dove si? Nell'acqua, nell'acqua Nell'acqua C'è un muro Non ce l'ho fatto, qua non ho fatto Ve arriva, arriva, arriva Ve arriva! Ah! Il cacco! Ma che caccio è l'acqua? Aaaaaaah! Che bella caccia! Aaaaaah! Perché caccio è l'acqua? Ma che caccio è l'acqua? Ma che caccio è l'altra parte del mondo! O zero euro! O zero sorghi! Bravo! Ma a lei si manca! Ma a lei si manca! Aspetta vediamo! E internet? E lo principale? No, non c'è niente! Ma coglione! C'è un coglione! Dove metterli in banca quelli! Sog! C'è un coglione! C'è un coglione! C'è un coglione! C fine! Voi vè! I don't know what is your name! Deo! E Başardino Madonna! Ai Andrea! Ai Andrea! Sto stano! Sto sts! Sto sts! Sto sts! Non c'ho nulla! Venici, venici, signora! Se... Tu vo le serve! C'è una? Non posso sentirmi la? Vengo vengo perché se spingo l2 mi fa il dito meri? no no ah perché non c'ho le armi e vengono con tutti i tasti mi fa il dito meri socemvo licenderti mi soccorso morti si è morto ero che fai dai mi sparai zig zag non ci sono nemmeno il giudizio mi fai solo paura sparo? no metti fuori l'arma metti giù l'arma se non ti sparo che caccia vai la motore la motore la motore che caccia mi dà seno un pistoletà di indensa venga qui non ci possiamo andare più vieni qua pollone pollone vai perché la polizia perché io provo un attello tagliani ma non ci sono che è il treno è il treno di un corruito dobbiamo finire la polizia vai 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 cosa viene vincito ma non mi chiamano perchè c'è un segnale, perchè c'è due ehi, qui c'è il rango 5 perfetto, avvicinati al trino ma non posso salvare un nello eccola 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 non ce l'ho fatta due cavalli da manere ma è impossibile salire ma devi salire sto salvando nel vuoto e noi mi faceva salire andiamo impegniamole eccola avvicinati c'è un colone che è un colone che è un colone amicini 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 che cazzo non è morto eccola 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 vabbè vabbè oh mio dio addio addio vai 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 amicini ah oh oh ci sono salito no io quasi arrivo amico ma a parte si forse riesco pure io a salire quanto frego online tu devi si è salito mi vedo ciao come hai fatto a salire il porcello non ci fa ho fatto un volo il motone le motone le motone tieni premuto il tasto col di mezzo sta scritto stile vai giù giù devi stare scritto azione hai il trombino apri scelgo no io non ti vedo non ti vedo non ti vedo non ti vedo scelgo dal treno scelgo dal treno scelgo dal treno scelgo dal treno io chiamo da fabb scelgo dal treno non ti vedo ma non ti vedo non ti vedo non ti vedo ma non ti vedo Ci dipende da una sasuna, sicuramente Aiaia Fai via auto è morto Siamo morto Speri rimane la ferma Vieni a prendere E rimane ferma Dove stai? Sto morando Vieni a prendere E' dovuto volare un motore O stiamo venendo a prendere Sono sopra il monte Il monte di cazzo Vieni a prendere Ma di solito sopra Sopra sto monce dovrebbe stare il monte Un fantasma Sono sopra il monte Ciglia Andiamo sopra il monte Ciglia Andiamo sopra il monte Ciglia Non sopra il monte Ciglia Non sopra il monte Ciglia Sopra quello non c'è Però non c'è però Perché non c'è Ehi Antonio, siamo a giocare a GTA Online, frena. Aia! Cosa? Sono morta. Ma sei un no, scemo. Siamo a giocare a GTA Online con Michele a cazzeggiare. Siamo cazzeggiando, è vero Michele? Sì, ma tu dove sei cazzeggiare? Sì, ma tu non c'è più il show. Sì, dico com'è. Beh. Oggi sono andato all'Invento. Sì. Ma hai preso? Da un mese l'hai preso. Sì. E poi c'è da un... Da un mese esiste poi? Da tre mesi da un anno. Cosa? Tre mesi da un anno. Tre mesi da un anno. Tre mesi da un anno. Tre mesi quanto costa? Venticinque euro. Che può andare a tre mesi, frena? Io sono Tony, Tony, Vigoppe. Anzema, continuiamo a morire. Noi non riesco a salire. Non riesco a salire. Ma sono sopermonte. Eh non riesco a salire. Ma qui la calva. oggi ho comprato il pallone bravo bravo è un caccato da notte ma dove si è spawnato qua non riesco a salire non riesco a morire ho capito come salire con la pistola Miri con la pistola e via arrivo aiaiaiaii ielto che c'è sale Con la pistola aiaiaia è un video Sei sto salendo con la pistola oh 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 chetino aia no fra saliamo sopra prendi la pistola oh aia chetino grazie l'emunizione si è munizione no no con il mitra oh ma dove stai non ti vedo io aia dai dai io salgo con la pistola uè pistola fammi ricaricare il mio tesoro dai sali come fate a salire? io mi vedo con la pistola e sali e con la pistola come manca a dire che è? che è? che è? iiii iiii ii uè pistola guarda così sangue vedi così vedi bravo porco dio aia 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 non guarda mi fa salire in casa aia 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 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua aia bravo certo non so niente la mozza chi è che sta arrivando l'ambulanza chi è che dove vivi dal mondo dai e il cespuglio il cespuglio qualcuno con la pistola ho preso il pallone non uno che fa il soldo sul pallone vino ma le comprate delle bancare le cinese l'ho preso è tutto colorato però di cuore penso di cuore minchè saliamo di cuore dai dai facciamo una gara facciamo una gara perchè non lo voglio fare la gara io dai no mi uccide non lo voglio fare la gara ma non la gara facciamo un'altra ecco hai preso il pacchetto del playstation plus di fortnite cioè no prendi aspetta ora attività avvia attività come facciamo fare come facciamo fare l'attività insieme? come facciamo fare l'attività insieme? perchè non lo facciamo via allora cosa vuoi fare? le gare? i versus? cattura death match modalità competizione cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? io so spavere o di cosa vuoi fare? ma chi la ti dà lui? cosa vuoi fare? le gare? santi? i dettmi? le catture? le missioni? le versus? no la cattura? no non ci sta no è vero i dettmi? come se le gare scante? ero missioni versus versus aia 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 ok vai uccidi aia 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 che succede a francesca? che? che? che che sono io cittura ma? sono io a to di michele 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 entra oh anto dimmelo no anto se le hai fatto qualcosa io no giuro intanto devo venire al san francesco no perchè no perchè ho avviato la sessione perchè potete entrare io no oh anto oh anto dimmelo non è successo niente no perchè a me siccome ehm gli ho detto il fatto che Kiko non gli piace più a Kiko se l'è presa oh è la verità ma quanto lo giuro mi ha chiesto lei Anto cosa ti ha chiesto? cosa ti ha chiesto? cosa ti ha detto? cioè ha parlato di me e ha detto e ha detto cioè gli ho detto io ti piace ancora Francesca che sta con un'altra e ha detto allora perchè poi sei sicuro? che la venga a sapere la cosa mi chiedo perchè la dove stai? ma mi è che le scelte la sessione? non sono scelta e non ti vedo nella mappa non c'è non c'è oh ok però sono partita e che a me non ti vedo nella mappa va bene va bene va bene va bene mi ha abbandonato quella cosa ma mi ha abbandonato mi ha abbandonato mi ha abbandonato dove sono entrato perchè non tu non è entrato tu dentro va bene non è entrato tu oh no dann mi che mi fanno quella che sta bene a questo tu hai voglio fare sulla casa mi sono uscito da cosa ma io ancora vai 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 ok un pacco di uniti di acqua anche se stessi Io sto masticando qualcosa di duro. Sono in trascensione tua amiche. Ma no, percadio! Ma no, percadio! Ma no, percadio! Antonio con la finita sta andando su creative. Perché io sono trovato il bestaggia. Percadio, 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 percadio! Bastardo, Dio, bastardo in cruce. Bastardo in cruce. E' bastardo in cruce. Passato in cruce. Dio, bastardo in cruce. Dio, bastardo in cruce. Dio, bastardo in cruce. Antonio, sei sicuro di quello che mi stai dicendo? Dio, bastardo in cruce. Eccolo, Fabio! Mamma mia, sto scrivendo! No, no! Mi chiedi, vengo a prendere! Ho freno! Ho tenuto giù su mio fratello! Mi chiedi ed è going, mi chiedi? Mi chiedi! Mi chiedi momenti! Michel ti sta venendo a prendere! Ma che ti sta venendo a prendere! Mi chiedi Symbrano? Eэ? Mi chiedi AA! Amm! Michele si fermo la e poi se dovevo scrivere stavo già a scrivere a Checco o dove è che ora io lo scrivo ma non c'è niente, non c'è più una massa lì nooo madonna tu si porchi che io come prima dice no Francesco non mi piace Checco aveva detto che Checco si era avvicinato e tu avevi chiesto che diceva che oh tu ma che cos'è che hai detto che si è avvicinato a Checco e hai detto ma ti piace ancora Francesco cosa fre ha detto ha detto ha detto quando stavamo da soli io e Checco ha parlato e ha detto si ha detto si perché le ho fatto io la domanda non c'è ancora Francesco mi ha detto no per un pochino però non c'è già con un'altra capito ora e lei è triste perché Checco non interessa più Francesco ah ma è certo c'è dei morso vabbè qual'è il problema mo capito ora ah si che il problema è che che costessimo un'altra e che non piace e che non piace per Francesco c'è un po' di picco un po' innamorato di Francesco ma non ho un'altra ma vuoi entrare ma vabbè lasciamo vedere di questo qua è proprio coglione del sangue no quanto però facciamo uno contro uno no ora entra aspetta ti andrò ti dico una cosa cosa quando devo andare a amare con Cosimo ma lo so già devo venire giusto mezz'oretta un'oretta al San Francesco ti dico non starò sempre con voi perché cinque e dici minuti li devo spiegare oh con chi ma non posso dire ma cosa ma di più fra di più di più poi ti spiego bene bene fra 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 vi dici se vi mettete in mezzo ve lo dico do manciate pure a voi perché 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 ah ah si ah 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 io vado con il mio faglio ah 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 no fermo fermo ah 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 investire devo salire sopra il faggio devo salire sopra il faggio fermo guarda esco da non si riuscite domani non si riuscite domani ah no no che mi sto sparando io Rochi Sì salto da me il controllo del foglio da me il controllo del foglio da me il controllo ti 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 aiuto mi sono fatto nooo ma me l'hai sbagliato nooo ma sono passato ah non è nero eccolo non prenderai nooo dai dai i amo e poi non c'è un pantalazzo Grazie a tutti ahahahahah va bene oh cosa scaricò o io smettiamo non cosa faccio chi'è? chi è? ma smettano una notte su un'altra aspetta 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 ii e vabbè un corpo sulle palle sempre un corpo sulle palle non mi spara va a fare un bocchino aia aia aiuto arrivo eh no dove scappi fini ma qua c'è ancora un cadavere guarda guarda ma c'è ancora un cadavere si no so guarda 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 no no come sei morto vieni qua vieni qua vieni qua vieni 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 non mi devi sparare non mi devi sparare non mi devi sparare a a non 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 vieni qua 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 ti ti ci cingio vieni qua ti ci cingio vieni 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 qua vieni 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 qua che cingio vieni qua è vero non 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 era un centro no come più non ci farò mai più che cosa sta? Coglione! Vai! 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 Coglione! Che fai? Perché ti sei messo nella modalità? Coglione! Picchia un fantasma! In-coglione! Picchia un fantasma! Ciro versano! Cando! La elección! Lmee! Grazie a tutti. perché? dove stai? io mi incontro Michelea oh ma non è la prima volta per te che giochi a GTA Online no non è la prima volta per te che giochi a GTA Online no no Francesco sai lo zaino della skin quella la? dai togli il tuo e io me la sono tolta la modetta passiva che vuoi? Francesco dai togli il tuo tonti tonti non so cosa con chi sta bene che? con il school trooper dai togli la dai togli la oh metti togli la alleluia alleluia cattino no muori ma perché è una schiva? ma perché è una schiva? ma perché è una schiva? non è una schiva non è una schiva non è una schiva non è una schiva dai fra facciamo una gara no dai voglio fare non è una schiva ma a me mi c'avano i soldi eh e vieni 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 ma c'ho zero soldi sì no sì 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 no 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 verrà un non no no in grado vieni vieni aia aia E dai, non vai, sono venuta Oh, la polizia No, perché se vuole esattarci? Perché sì? Eh, ecco, ecco Stai, 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 stai Stai, stai Stai, stai Mi è molto preso col pompa Che fai? Che casino! la polizia mi sono messo in un'altra passiva non mi può uccidere la polizia ma non sa la gara vai pula dove ci fa togliere la polizia dove ci fa togliere la polizia come si fa togliere la polizia come si fa devi spugnare solo l'invento oh non mi devi mancare mamma mia mi si fa togliere mamma mia mamma mia brava facciamo una gara brava facciamo una gara nello stesso momento va lì va lì ho spacchato in questa sedia Antonio Antonio un po' bello, un po' bello ecco, io tiro la mia maniera da passino adesso tolta va bene toglielela uccidiali cosa? no, no ho capito come si dice uccidi uccidio uccidio di campana ho capito come si indica ho capito come si indica così non devi aver nessun ballo ma come fa fa? non c'è scocciare il ballo del suino si al potere del suino no mi stava a caro adesso non può tu tu noi città tu ma non città ti sono fatti in culo dai di come città con l3 dai no no 121 come città come città r3 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 r4 r4 r3 r4 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 Guarda! Questo è il pene! Guarda! Crucia il pene! Vieni qua! Dino! Ok, guarda! 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 Guarda gli occhi! Guarda! Ora devi spegnere il tasto grande, vai sotto sotto, sta scritto disabilizza la modalità passiva, dove sei? Eccola, fatto, toglitela pure te, 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 toglitela, toglitela, dico, sei messo volta io, ecco, ma scusa, scusa, aspetta, 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 vieni qua, vieni qua, si mette il gioccio del naso, ricurtelo, te l'ho messo nel culo, se c'è una cosa che mi da fastidio, io lo dico, lo dico pure, oh, aia, aia, come si permette? lei non avrà la cosa ma benissimo che cosa fai? lei lei fa questo la sera forse per me io lo sai cosa faccio la tira sai io cosa faccio sarà va faccio l'ultimo fatto lo sai cosa faccio io questo questo ah ma tu allora fra vai spingi option spingi option verso online verso attività avvia attività spingi poi spingi creati da rockstar metti garisanta oh perché sono super mondiale mafeoide vuoi ucciso ciao ciao a new devo chiudere scuola scuola ciò mi bevi lo ci do io sto stronzo eeeh 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 la cazza ho scuso cazzo ti ho sconso vai mi calino arrivo io col tuo tuo ti ho ucciso no vedo da diet noooo dai oh ma cos'qu'è oh ma cos'qu'è ma dove si è mia c'è chi ne è no no come 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 concettino non è nomi che spingi option vai su online metti attività avvia attività metti creati da rockstar metti gare santo poi devi mettere la gara con non è non lo mettiamo questo e di quale qual è quello di tecno quale vabbè moltimilito faccio come me c'è mi vabbè 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 oi no messaggi affabile perché non me la fa mettere la gara? ora facciamo una cosa abbandona ah no 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 aspetta non avviare l'evento perché a me sto già in un altro evento fra tre minuti un po' confronto fra tre minuti finisce dai 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 avvi dai 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 Niki 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 si dà quella Niki Niki che vai abbandona con l'attività esci mamma ok che molti invito e aspetta che sentendo come mostro perché tolgo la musica ok allora come si fa a invitare conferma partite voi e amici e amici e amici amici che cosa fai conferma partite da qui conferma impostazione mi sono scritto spingo conferma impostazioni allora i miei amici i miei amici i miei amici amici che giocano a giziavo ecco a fabile invitati ok 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 ecco ecco ai azione di vittoria altra un bimbo sono primo I am dai 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 non vale io sono cazzo aiuto aiuto che bella gara dai mi sono giocata ancora non sai guidare io si le sto facendo bene le curve anche sto andando veloce sto andando a sbarto che bella curva ah ma c'è andato a sbattere qualcosa come stai sbattendo come stai sbattendo stai sbattendo guardo in cappella ciao questa è la macchina subacqua è vero questa è la macchina subacqua io sto sbattendo acqua con la macchina un c'è andato a sbattere che bella un c'è e un c'è un c'è che bella è sembrato si un c'è 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 Ok Michele Ma sta nella gara Perchè? Perchè? Perchè andando sotto a terra? Perchè? 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 e mamma da aspettare che finisce la gara rango 5 suinos ora cosa facciamo io? io voglio fare... facciamo quella col jetpack io ho messo quella col jetpack e tu quelle vuoi mettere? e ragazzi ecco 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 Io non so guidare il jetpack E' un po' di un po' di un po' di più Ma come si guida sto coso? Tu lo sai guidare? Mamma Che cazzo si guida? Fria ma come si guida? Mamma Non so guidare Eh vabbè ho perso Non so guidare Oh C'è vabbè Cosa c'è proprio la gara A porco di Eeeh Eeeh Eeeeh Eeeh ... ... ... è una direzione sbagliata porco dio no 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 che dove stai Ciao 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 Io sto fermo Ciao Non lo so guidare sto coso Tu sei quasi arrivato alla fine Non lo so guidare sto coso Dai c'è Dopo questa gara facciamo un deathmatch. Dette se non dovete sparare. Frec, finito! No, non so. Non so. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. No. Oh, di mangiare? No. 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 non mi ricordi la pausa non mi ricordi la mia non mi ricordi mi chiede a te ti ha fatto sire francese io spendo fumo la testa io la testa ciao non do giocare da solo non si non si chiama stia sono scarso non c'è no vengo su fortnite non 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 non